Amici di Volonbrite, ben ritrovati. Abbiamo qui con noi Silvia Pochettino, direttrice di ONG 2.0 e giornalista sociale. Allora Silvia, che cos'è per te una buona notizia? Una buona notizia è essenzialmente qualcosa che ci aiuta a capire meglio la realtà nel suo complesso. Non è necessariamente una notizia positiva, ma è una notizia che ci permette di capire meglio la nostra realtà e di vedere delle soluzioni a eventuali problemi. Quindi un approccio costruttivo che ci dà dei dati di realtà, ma ci dà anche delle possibili indicazioni per affrontare, cambiare, intervenire sulla realtà. Invece, come le notizie positive riescono a influire sul benessere delle persone o nella società in generale? Questo è un aspetto fondamentale, perché sappiamo che l'informazione ha un'influenza altissima sul nostro modo di percepire la vita, di percepire il mondo. Quindi in base alle informazioni che noi incontriamo, che noi conosciamo, ci costruiamo un'idea di mondo. Per cui le informazioni negative ci costruiscono un'idea di mondo negativa, paurosa, spaventosa. Le informazioni positive, come le ho definite prima, cioè che ci danno una conoscenza complessiva della realtà e delle prospettive di possibili soluzioni, interventi nella realtà, ci danno invece un approccio positivo, creativo, ideativo per vivere la nostra realtà in modo completo. Come ultima domanda, qual è il tuo contributo per un'informazione positiva? Ecco, su questo io lavoro da tanto, sia a livello formativo, sia a livello proprio di produzione di notizie, perché ho fatto per tanti anni la giornalista e anche la formatrice, e il contributo secondo me importante da dare è scovare quelle storie che spesso sono nascoste, illuminare quelle periferie del mondo, tra virgolette, come si definiscono, cioè quelle parti di mondo che sono molto poco notiziate, ma in cui succedono tantissime cose, per esempio molti paesi del sud del mondo, o anche molte realtà sociali del nostro territorio, che trovano soluzioni a problemi, che fanno sperimentazioni positive, che vanno raccontate perché appunto ci danno speranza, ci danno una prospettiva. Il mondo non sono solo disastri, crisi, anche se ci sono e anche queste vanno raccontate, ma tutta l'altra parte sommersa è importantissima e questa va raccontata. Quindi il contributo è trovare queste storie, cercarle, conoscerle, raccontarle, e anche imparare noi stessi a guardare il mondo con un approccio più completo, appunto. Non dico necessariamente positivo, ma completo, perché spesso la nostra visione è parziale. Vediamo solo le parti più negative perché sono quelle più raccontate. Ringraziamo Silvia Pochettino per la sua disponibilità e da Volonright è tutto. Grazie.